Claudio Borghi della Lega Nord. Borghi, chiedo subito a lei, qualche minuto fa il Premier francese Casnev ha puntato il dito contro la candidata del Front National rea di strumentalizzare, userò le sue parole, senza vergogna la paura per fini elettorali a due giorni dal voto. Al Front National, ha detto sempre Casnev, attizzano l'odio. È così, Borghi? È abbastanza incredibile che se succede qualcosa che è totalmente nelle corde del Front National non è che oggi il Front National denuncia le questioni legate al terrorismo alla sicurezza o all'immigrazione incontrollata o similari così come del resto lo facciamo noi. Quando succedono le cose che erano oggetto della denuncia si accusa la strumentalizzazione. Invece io per esempio non mi ricordo, però magari mi ricordo male quando alla vigilia del voto sulla Brexit venne uccisa la deputata Cox, vi ricordate? Come no? La deputata fervente europeista. Ecco, in quel caso era colpa dei nazionalisti. Quindi i nazionalisti hanno la colpa quando capita il pazzo, perché poi di quel signore lì non so, si sono perse le tracce, io non ho più sentito nulla, quando c'è un pazzo che prende e uccide una povera deputata, ma hanno colpa anche quando invece è un estremista islamico che colpisce. Cioè, indipendentemente, quando il terrorismo colpisce una parte o l'altra è sempre colpa del nazionalismo. Io semplicemente faccio notare una cosa, che come avete correttamente fatto vedere nel vostro servizio, la striscia è continua, non c'è un'impennata nei confronti delle elezioni. C'è un attacco continuo, continuativo, ormai a cadenza bimestrale forse, ormai, di attentati che non sono neanche solo in Francia, ma abbiamo visto che sono in Belgio, sono in Inghilterra, sono da tante altre parti. Quello che mi sembra ovvio pensare è che se noi importiamo centinaia di migliaia di persone che hanno un uso e una mentalità ancora molto lontana dalle nostre, è probabile che loro importino anche i loro usi, dato che gli assalti, le esplosioni, kamikaze e così via, sono pane quotidiano nei paesi del Medio Oriente. Cioè, noi guardiamo con scandalo le nostre, ma ogni giorno c'è un'autobomba in Siria, c'è un'autobomba in Iran, c'è un'autobomba in Turchia, c'è un'autobomba in Iraq, questi paesi. Quindi se noi prendiamo loro prendiamo anche questo, lei dice. Beh, ma mi sembra ovvio, ma forse pensiamo che se noi importiamo centomila musulmani, poi questi solo per il fatto di venire qui a respirare la nostra aria, comincino a leggere Proust o qualcosa del genere. Fermo un attimo. Allora, dalla Francia vi porto dritti dritti in Italia, dove vi porto? Vi porto a Pontida, perché a Pontida arriverà nei prossimi giorni, domani anzi, e arriverà una manifestazione nazionale. Tutti a Pontida, giornata dell'orgoglio antirazzista, migrante e meridionale. Ora, Borghi, cosa succederà domani a Pontida? Ma non succede niente, non succede niente perché ognuno è libero di manifestare dove vuole. Certo, quello è un luogo che per noi della Lega è molto importante, ma non mi risulta che la differenza sia semplicemente nella storia. La storia ci dice che in tantissime manifestazioni della Lega, e me ne ricordo con centinaia di migliaia di persone a Milano, a Bologna, a Firenze, a Roma, alla fine della manifestazione non c'era giù neanche un pacchettino di patatine usato. La piazza era più pulita di come l'abbiamo trovata. Le manifestazioni dei centri sociali di solito hanno sempre portato devastazioni, incendi, macchine bruciate, questo tipo. Questi sono anche centri sociali. Forse anche, no? A un certo punto è prudente, ma in ogni caso una cosa che noi non faremo mai, al contrario degli altri, è fare contromanifestazioni per impedire a qualcuno di parlare. Guardi, io ho fatto una campagna elettorale in Toscana, dove, per dire, a Viareggio, per un normale comizio elettorale e comizio elettorale di forza di opposizione, volavano i sassi. C'era polizia schierata come se dovesse esserci l'esercito invasore, e poi tiravano uova, sassi e io ho fatto un comizio schivando le uova. No, no, capito, lei dice che noi non andiamo ad organizzare la contromanifestazione, però diciamo che il fatto che il sindaco decida di barricare la città, tra l'altro è stato mio ospite un paio di giorni fa perché gli chiedevo appunto il perché, e lui mi ha detto, beh no, perché non si sa mai, poi chissà che cosa può succedere. Ora, sinceramente, è chiaro che quel tipo di messaggio anche ai cittadini non lascia, diciamo, una sensazione di serenità, no? Per cui a Pontida ci hanno davvero paura che arrivi nella Zichenecchi, come dice De Magistris. Forse è un po' troppo, no? Ma guardi, è un paese piccolino, Pontida, eh? Attenzione, non è che stiamo parlando di una metropologia. Ma stiamo parlando di una manifestazione, Borghi. Sì, mi rendo conto, è una manifestazione dove ci sono elementi che sono potenzialmente a rischio. Ma se non succederà niente, io sono stracontento, ma d'altra parte non sto mica lì a sindacare l'ordinanza del sindaco. Io per me avrei anche lasciato aperto tutto. No, appunto, chiedevo a lei la sua opinione, semplicemente. Di solito il sindaco fa cose del genere una volta sentitela a Digos, è difficile che prendano delle grandi iniziative da soli. Probabilmente per prudenza ne ho detto di fare così. Perché il questore lo aveva sentito, perché io gli ho chiesto se aveva parlato col questore, mi ha detto che aveva sentito, dico ma è d'accordo con lei? Beh, insomma, adesso vediamo. Quindi, diciamo, non mi sembra che il sindaco abbia seguito le indicazioni di qualcun altro. Mi pare un'indicazione del sindaco. Dal punto di vista del partito le posso assicurare che non c'è stato niente, c'è stato semplicemente un ricordare a tutti, perché magari qualcuno poteva non aver ben afferrato, ma in ogni caso tutti hanno recepito benissimo, che tutti sono liberi di fare quello che vogliono all'interno delle regole rispettando le leggi. Meno male, meno male. Professor Denardis, si dimentichi di essere campano napoletano. Mi pare di ricordare che se qualcuno invece, come spesso questi signori hanno fatto, e io ero a Napoli, e posso testimoniare, se una normale manifestazione dove non si dice nulla di razzista, perché io sfido a trovare una sola parola razzista, per esempio detta, o anche antimeridionalista, detta a Napoli quando siamo andati giù a fare il nostro convegno di noi... Beh, insomma, se uno va a Napoli e dopo gli dice anche che sono brutti e cattivi, forse, no? Si chiama provocazione quella. Beh, mi auguro che uno a Napoli non vada a dire... Non ci sono tante persone che hanno le nostre stesse idee di sovranismo, di difesa dei confini, Ma noi abbiamo fatto anche dei servizi con i napoletani che sostengono Salvini, non ho dubbi su questo. Però aspetti un attimo, vorrei sentire anche gli altri ospiti, se no ogni volta... Mi ricorda un filo lo squadrismo, perché è evidente che se io sono all'opposizione e voglio dire la mia, e chi invece è al governo, cerca di impedirmi con la forza di parlare... Ma va bene, ho capito. C'è esagerato continuare a dire che se Renzi vince, allora scioglie il Parlamento? Non può farlo, punto e basta. Non c'è la legge elettorale e non sa da che parte cominciare. C'è un Presidente della Repubblica che è quello che scioglie il Parlamento e quindi non può farlo. E semmai sul punto sul quale io obietterei, ma qui bisognerebbe sentire anche altri, è che deve consentire al governo di fare una manovra economica durissima e deve poi sperare che quella manovra funzioni, perché se torna a fare il Capo del Governo, qualcuno gli avrà tolto le castagne dal fuoco. Vorrei che smettessimo di dire che non si possono alzare le tasse. Si possono e si debbono. Se vogliamo uscire dal debito pubblico... C'è Borghi che sta festeggiando. Stato a mortire di Champagne. Se vogliamo uscire dal debito pubblico bisogna in qualche modo... È l'unico modo. Esattamente. E certo, ha visto Borghi quando ha fatto le tasse il debito pubblico come è calato. Borghi, mi dice che idea si è fatta lei della vicenda di Igor. Magari sinteticamente voglio mostrarvi un'altra cosa. Ma da cittadino io rilevo che questo signore ha accumulato una collezione di condanne, espulsioni, fogli di via e cose di questo tipo... Ecco, il punto è che non doveva essere qui. Eppure era in giro. Io penso che il cittadino si domanda o domanda alle istituzioni che se uno, alla prima, specialmente chi arriva dall'estero, alla primo sgarro, invece di venire mantenuto in prigione e oltretutto accumulare le buone condotte, venga rimandato direttamente a casa sua. Poi questo veramente, insomma, alcune cose che ha fatto erano incredibili, cioè prese con l'ascia... Cioè, io le ho lette e non... Sì, che andava in giro con l'arco e le frecce, con l'ascia... Cioè, un'aggressione con l'ascia e così così tipo. E poi dopo, una volta che questo ha aggredito le persone con l'ascia, poi una volta arriva in carcere, ha la ureolina in testa perché dice come mi comporto bene, allora gli diamo la buona condotta. Ma secondo me dovrebbe farsi fino in fondo tutta la sua pena oppure, cosa migliore, rispedirlo semplicemente da dove... Una volta che si capisce qual è a casa sua, perché all'inizio non si capiva neanche qual è la casa sua. Diciamo che abbiamo avuto qualche problema con il signor Igor, mettiamola così. Faccio vedere questa, che conoscete tutti, no? Che cos'è questa? Una carta d'identità. Com'è? La carta d'identità è cartacea e diversa da quelle che c'hanno in tutta Europa, che sono quelle plastificate. Ma anche noi dovevamo avere quelle plastificate. Era il 2000 e Franco Bassanini, il ministro per la funzione pubblica, diceva che... ...il giro di qualche anno questo sarà l'unico strumento di identità certo moderno e voglio ricordare, l'Italia è il secondo paese dopo la Finlandia a attuare uno strumento moderno. Guarda Borghi, tutti a tirar fuori la carta d'identità. Cioè quella è la vecchia e quella è la nuova, Borghi? No, ma è una cosa sempre per... Noi amiamo complicare le cose. Questa è la mia carta d'identità, no? Vedete, bella smangiata, tipo topo da sopra, perché si chiama il codice fiscale. Questa è la tessera sanitaria. Penso che sia la tessa persona, cioè nel senso come mi riconoscono qui mi dovrebbero riconoscere anche qui. Non si sa mai, Borghi, perché lei può riservare delle sorprese. Allora...